le stelle di azus benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di azus l'oroscopo di domenica 20 giugno ariete in amore prevale la componente passionale siete attratti irresistibilmente da tutto quello che è nuovo quindi se siete dei single potete lasciarvi travolgere dal risveglio dei sensi tolo c'è una situazione di stallo sul lavoro quindi conviene staccare la spina e prendersi qualche giorno di pausa in amore scoprirete che anche la routine non è tanto male gemelli sarà una domenica intensa anche se il sole si appresta a lasciare il vostro segno voi avrete una carica eccezionale capace di travolgere chiunque in amore sarete affascinanti cancro continuate ad essere asociali chiusi in voi stessi o per troppa timidezza o per troppa presunzione sarebbe molto meglio invece aprirsi al mondo e alle nuove conoscenze leone la vita sociale decisamente una delle note migliori di questo periodo state facendo tante nuove conoscenze e anche se a volte non riuscite a trattenere il vostro senso di superiorità riuscite ad attirare l'attenzione vergine in questo momento state esagerando con le spese sarebbe il caso di darsi una regolata prima o poi infatti finirete col mettere mano alla calcolatrice e farvi due conti bilancia la luna ancora dalla vostra parte quindi sarete di ottimo umore appena potete staccate la spina organizzate momenti di svago dopo aver dato tanto nell'ultimo periodo scorpione il lavoro continua a riservarvi delle belle sorprese vi capiterà di incontrare persone importanti che possono darvi una grossa mano per poter raggiungere un obiettivo che vi siete posti sagittario state vivendo un periodo molto confuso in ambito professionale vi sentite sballottati da una parte all'altra mercurio opposto non contribuisce a rendervi comprensivi e disponibili capricorno lasciate passare questa luna svogliata prima di prendere delle iniziative decise anche la prossima settimana può vedervi protagonisti di un importante successo acquario state attraversando un momento particolarmente felice in amore la luna in bilancia riesce a darvi quell'equilibrio che vi trasforma immediatamente in partner e amici ideali pesci siete sempre pieni di problemi e quando non li avete realmente ve li create per avere sempre qualcosa di cui lamentarvi non vi sta bene praticamente niente e con l'oroscopo di oggi è tutto le stelle di azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su facebook alla pagina oroscopo di azus